Anna, che cosa ci proponete questa sera? Non mangiamo stasera, vero? Non mangiamo stasera, vero? No, no, stasera puliamo. Ok. Allora, vi propongo dei prodotti alternativi che costano poco e sono anche ecologici, cioè non inquinano l'ambiente. Per pulire casa, per lavare i panni, allora che sono? L'ascezo, il bicarbonato e il limone. Allora, l'ascezo è un ottimo sgrassante, disinfettante, si pulisce bene i vetri, serve anche per scacciare gli insetti, poi si può usare come ammorbidente perché addolcisce l'acqua, quindi nella lavatrice, è al posto dell'ammorbidente, si può mettere l'aceto. Non resta l'odore forte, Anna? Sui panni? Non resta l'odore forte di aceto sui panni, poi? No, 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 ne va messo in dose poche, insomma. Come si usa l'ammorbidente? Un tappino di aceto, anzi per l'odore sarebbe meglio l'aceto di mele perché ha un odore in effetti un po' meno forte. Però ecco, poi no, no, non succede niente, vengono i panni bellissimi. Anche per gli insetti mica male, no? Nella lavastoviglie. Nella lavastoviglie? Anche nella lavastoviglie è il posto del brillantante. Ah, vedi? Lo faccio, io lo faccio questo, lo faccio, ci sono, l'ho sempre fatto io. Ma di vino o di mele? È uguale? Io di vino, io di vino me uso. Ma, allora, quello di mele ha meno odore, però quello di vino costa meno, quindi se uno vuole risparmiare può prendere l'aceto di vino, va bene? Poi il bicarbonato ha le solite qualità dell'aceto, soltanto essendo un polvere ha un'altra funzione, più abrasiva. E anche il bicarbonato, se si mette al posto dell'ammorbidente, i panni vengono più morbidi, più bianchi, perché il bicarbonato sbianca anche, ecco. Poi mescolato con l'acqua calda, si fa venire una specie di poltiglia e si può pulire, si possono pulire i lavandini, i sanitari nel bagno, è come uno sgrassatore, quindi funziona benissimo. Il limone, il limone io lo adopero spesso per metterlo nella lavastoviglie, che mi toglie l'odore cattivo, va bene? E in più aiuta a sgrassare le stoviglie. Nel frigorifero assorbe gli odori sempre cattivi e se si prendono un po' di gocce di limone e di olio, olio d'oliva, si puliscono i mobili di legno, vengono belli, lucidi, benissimo. Grazie Anna, ma sei un tesoro, ci hai dato... Mi piacciono tantissimo. I consigli direi straordinari, sono talmente tanti che correte subito dopo a vedere da domani su Facebook, sul nostro sito internet, questi consigli preziosissimi. Non vedo l'ora di andare a fare la lavatrice. Ma veramente? Sì, col bicarbonato, l'aceto, tutto si mette. Ma poi il bicarbonato che fa le poltiglie, la di sanitari, lavandini, questa giuro che non la sapevo. Non vedo l'ora, guarda. Non la sapevo. Allora, grazie. Comunque c'è un altro... Vai, vai, un altro segreto. C'è un altro trucco. Se per esempio con l'acqua gassata, uno mentre pranza si macchia, si macchia la maglia, subito si prende un po' di acqua gassata, si strofina sulla maglia e la macchia va via.